amici di milan punto soccer eccoci con un nuovo appuntamento grazie grazie a tutti quelli che hanno fatto mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno e quindi vi voglio ringraziare così come se foste tutti qui abbracciati a questo unico simbolo che ci lega quello della c milan è a due colori il rosso e il nero grazie grazie da me da tutta la redazione oggi la direttrice ovviamente ha lasciato la direzione un po ubriaca c'è ancora alienino che ogni tanto sbuca e che saluta anche perché deve tornare deve tornare con la sua astronave ci vediamo presto ci vediamo domani essi perché gli orari sono quelli di lavoro quindi mi raccomando perché da domani saremo a new york quindi trasmetteremo da lì il format ovunque milan allora prima di cominciare vi ricordo l'ultimo piccolo regalo iscrizione al canale qui sotto c'è scritto iscriviti è gratis il pollicione per dire che vi piace se vi piace chiaramente questo video e poi ancora più in basso gli ultimi giorni di romanzo milan uffa 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 si siamo alla vigilia la vigilia di una partita importante dico uffa perché perché non voglio mai pensare che la coppa italia possa essere il nostro obiettivo più ambito ma adesso lasciamo da parte questioni polemiche faccende e arriviamo alla cosa più importante stiamo per scendere in campo già stiamo per scendere in campo contro una squadra che ci ha sempre messo un po in difficoltà l'ultimo confronto in coppa italia tra le due squadre risale all'edizione 2000 2001 ai quarti di finale il milan dopo aver vinto per 4 a 2 il match d'andata san siro perse 2 a 1 al ritorno a bergamo ma riuscì comunque a conquistare la qualificazione per le semifinali dove poi si sarebbe arreso davanti alla fiorentina noi non abbiamo mai avuto una grande passione per la coppa italia comunque il milan e la dea si sono affrontate in campionato di recente lo scorso 9 dicembre al gave stadium e chiaramente la squadra di gasperini ce lo ricordiamo chiaramente nel senso che ce lo ricordiamo si è imposta per 3 a 2 grazie a quel maledetto tocco di tacco di muriel nei minuti di recupero quanti punti persi ragazzi io non voglio nemmeno pensarci volevo affrontare con voi la faccenda relativa alla formazione ma credo che non riusciamo in questo momento anche se l'unica questione che mi preme è quella di pensare alla partita vinta contro l'empoli e a pensare a una formazione che non si distacchi molto da quella certo teo fernandez centrale e a sinistra non florenzi in quanto ancora infortunato bartesaghi oppure gimenez ditemi voi cosa preferite non perché poi conti qualcosa perché non è che noi possiamo chiamare però possiamo dire la nostra in quanto ci teniamo particolarmente e poi ancora nella parte diciamo alla io all'attacco in questo momento ve lo dico preferirei jovic a shiru perché in questo momento non c'è queste sono le mie idee comunque io in panchina vedo bene vedo bene un bel chaka tra ore tra ore perché parlo di chaka tra ore perché ve l'avevo promesso vi avevo detto facciamo una puntata speciale su un giocatore che merita un giovane che è arrivato esordio in coppa italia gol esordio nel senso primo gol in campionato e beh insomma un talentino del milan che dopo appunto il gol in coppa italia la prima da titolare contro il cagliari si concede il lusso di segnare un'altra rete è la prima volta in 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 serie a nella vittoria il castellani contro l'empoli il classe 2004 ivoriano mette un sigillo su una stagione che lo ha visto bruciare le tappe prima l'esordio in champions league contro il borussia dortmund poi la prima apparizione con il milan contro il frosinone e infine la settimana d'oro inizio 2024 con i primi due gol coppa italia e campionato classe 2004 l'abbiamo già detto esterno d'attacco che preferisce la fascia sinistra dalla quale ama partire per poi rientrare e con ottime capacità di dribbling che non è una cosa facile andare poi a concludere col destro sul secondo palo non è un caso infatti che con l'empoli sia arrivato proprio così il gol rientrando e sparando sul palo lontano è un tiro che è un marchio di fabbrica un colpo che tra ore è solito sfoderare quando giocava o gioca o giocava o giocherà nella primavera è un marchio di fabbrica il destro a giro sul secondo palo forte e preciso in allenamento non so quanti ne avrà segnati questo ce lo dice lo dice giunti in un'intervista alla gazzetta dello sport poi ripresa in un articolo da calciomercato.com che fa una disamina molto attenta e intelligente comunque lì sull'esterno lui sta studiando da vice leao e ci sono molte cose affini tra ciacca traore e leao ed è chiaramente un possibile sostituto quante belle notizie dalla primavera per scovare però il suo debutto in serie a bisogna tornare alla 10 aprile del 2021 quando a 17 anni a tardini mette per la prima volta i piedi sul palcoscenico della massima serie nella sconfitta del parma dove militava allora proprio contro il milan di zlatan ibraimovic un debutto da record traore diventa il primo calciatore nato nel 2004 a giocare nel nostro campionato infatti il suo salento non ci mette molto ad entrare negli occhi della dirigenza milanista che subito si muove per il suo passaggio in rosso nero dove in primavera da grande dimostrazione delle sue qualità con ottime prestazioni tra campionato e yacht league ma arriviamo un po al titolo perché questo giocatore arriva proprio da lontano il primo contatto di traore con il calcio italiano e con la maglia dell'audace squadra dilettantistica di parma dove approda dopo un lungo viaggio fatto di speranza e incertezze tra ore infatti arriva in italia dopo un lungo tragitto su un'imbarcazione di fortuna che dall'africa lo porta sulle coste italiane raggiunge l'emilia romagna accompagnato da un agente che purtroppo verrà arrestato per favoreggiamento all'immigrazione e portava un nome falso il cognome falso di ciaka traore era qui in italia con il nome di sisse e viene poi affidato ai servizi sociali è inutile dire che tra ore è stato salvato dal calcio e ora sogna in maniera diversa da come evidentemente avrebbe mai potuto sperare ed immaginare dal nulla alla serie a passando per parma tra ore una delle migliori notizie di questo milan che ora ripone lui speranze per il futuro io ringrazio per questo pezzo la redazione di calciomercato ci sembrava intelligente opportuno divulgare un po la storia di questo giovane è una parte di storia che siamo venuti a conoscenza anche noi con voi e ci emoziona davvero tanto ripartiamo con questo 2024 pensando che perlomeno il milan ha un grande settore giovanile ci vediamo a new york ciao